ehi la ciurma e ben ritrovati con questo nuovissimo video di mine test dove siamo ci siamo persi no vi posso assicurare che non siamo nel server dell'altra volta e non siamo neanche in mine testita hanno fatto questi lavori trovato questo deserto eccetera eccetera questo è un po capitolo che volevo fare per dichiarare ufficialmente chiusa una serie voi avete presente forse gli ultimi iscritti no che aveva iniziato a fare una serie con tale jackydale che io ho sempre pronunciato jackydale e avevamo registrato il primo video in cui iniziavamo il mondo e poi avremmo dovuto registrare un video entro breve poi non l'abbiamo più fatto perché sono cambiati i progetti nel senso io ho avuto un sacco di esami lui poi è andato in vacanza lui poi è smesso di giocare a mine test eccetera eccetera però mi dispiaceva non farvi vedere quello che abbiamo fatto perché noi ci siamo incontrati vari pomeriggi abbiamo giocato insieme abbiamo costruito il mondo in cui dopo avremmo dovuto registrare gli episodi che poi non sono mai stati registrati e non saranno più registrati perché appunto come vi ho detto jackydale mi ha detto in passato che non avrebbe più giocato mai in test quindi questo progetto si poteva dire archiviato è stato principalmente colpa mia però volevo farvi vedere un attimo quello che è stato fatto nonostante non ci sarà mai una serie con jackydale perché tra l'altro poi lui nel frattempo ha avuto altri progetti diciamo e sono contento per lui per come gli andate eccetera eccetera fatta questa brevissima introduzione questa era la nostra casetta con tanto di orticello con i mele di lato e qua c'era la nostra terrazza con le due panchine di qua c'era il mare mi ricordo quando c'è questo laghetto mare non mi ricordo se la si chiude sì è un laghetto ok è una zona un po tra le montagne e quando avevamo finito questa terrazza insieme avevamo preso la rincorsa da là e ci eravamo buttati giù di sotto mi pare che forse lui fosse addirittura morto perché aveva beccato un punto con l'acqua non abbastanza alta e ma eravamo morti tantissimo in queste serie perché avevamo tipo un sacco di ossa in giro e niente questo qua era la terrazzina diciamo che lui aveva insistito per mettere con dei sostegni veri mentre io l'avevo fatto tipo mezzo sospeso nel vuoto e niente questo punto era la zona dell'orticello questa era la nostra casetta però ve la faccio vedere un attimo dopo qua c'era la zona della miniera qua avevamo fatto l'ascensore di qua e qua c'era il tunnel per buttarsi giù nell'acqua solo che abbiamo scoperto che nonostante un sacco di tentativi era impraticabile la situazione infatti eravamo morti tantissime volte per per provare insomma a vedere se se ci salvavamo meno alla fine la cosa più furba era sempre stato no io odio i tasti permanenti di windows sapete cosa è successo si attiva tasti permanenti dannazione tasti permanenti windows 7 ecco disattivare tasti permanenti impostazioni scusatemi ma di tastiera no non è qua accesso facilitato accesso facilitato applica ok ho disattivato i tasti permanenti proviamo shift 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 no toglili per sempre ok chiudi se adesso faccio shift 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 alleluia ma è la cosa più odiosa del mondo e adesso non esco più da sto letto ok ma vi rendete conto ma che cazzo ok basta esforiate stai calmo alessandro stai calmissimo c'è ho premuto cinque volte shift per non uccidermi ed è partito che cosa tasti permanenti è proprio vero chi chiama windows windsots è proprio un'azzozzata assurda altra cosa che ho scoperto molto stupidissima windows non riconosce delle pennette usb con due partizioni ne legge solo una ho chiesto perchè all'assistenza dicevo perchè devi fare una pennetta con due partizioni perchè non potrei ho una pennetta con 64 giga posso sfruttarla a mio piacimento e invece no ecco qua la mia ossa ehi ma non mi è andato niente allora uno due se yakidale rivede questo video cosa che credo non succederà mai gli verrà di sicuro in mente di tutte le volte che c'è dovuto fare c'è capitato di dover fare questa operazione di riprendere tutti gli oggetti dalle ossa infatti avevamo messo poi ad un certo punto una cesta qua sotto in modo da non dover portarci sempre dietro tutte queste ossa e tutti questi non c'è più la cesta boh ma questa non è l'ultima versione credo con l'ultima versione l'ho persa perchè come potremmo vedere in seguito degli altri edifici che avevamo costruito no edifici in realtà una stradina che avevamo costruito non c'è credo di aver perso quell'ultimo salvataggio diciamo però questo è comunque abbastanza avanzato è quasi l'ultima volta che ci abbiamo giocato insomma ehm mannaggia quanto ci va qua per arrivare in cima 3,2,1 ok ci va comunque meno che non correre superi delle scale ehm allora dicevamo la nostra casetta dove qua ci sono delle varie belle fornaci delle ossa perchè erano pieni delle nostre ossa ecco qua e qua c'è la stanzetta che avete visto prima io avevo fatto tutti i letti di tutti i colori avevo aggiunto la mod appunto quella dei letti colorati ehm qua ci dormiva Iachidale Iachidale scusami Iachidale scusami sul serio ma io l'ho sempre pronunciato sbagliato e qua ci dormivo io questo era il mio camerino diciamo questo era il suo camerino non so se ah ci sono delle sue ossa lol adesso ho finito tutte le altre ossa avevamo un sacco di ossa boh comunque qua c'era la stradina e continuava in realtà ecco quello che dicevo che manca è la stradina che continua in su di qua perchè avevamo fatto una stradina che continua in su di qua forse voi non vedrete assolutamente niente perchè è notte avrei dovuto dormire e poi in qua avremmo dovuto fare un piccolo villaggio dove c'era questa colonna diciamo l'unica cosa che poi si è stata fatta ve la faccio vedere quando ci sarà il giorno ma che è meglio dove sono finito adesso casa dov'è casa mia? voglio tornare a casa 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 ok ecco qua scendiamo di qua anche se era la discesa di Iachidale ecco dormiamo allora dovrebbe essere giorno ora e infatti perfetto andiamo a vedere di la tra l'altro mi mi ricordo che a ridere che io chiudevo sempre le porte passando e Iachidale le lascerò sempre aperte invece ehhh i problemi della convivenza e qua appunto l'unica cosa che era stata fatta di questo villaggio era questa specie di tempio che avevo costruito io ma che ehh era diverso nel senso l'avevo terminato ci avevo fatto delle cose un po' diverse mi pare dall'ultima volta se per il caso Iachidale avrà voglia di vedere questo video potrà confermare o smentire diciamo quello che è successo tra l'altro chiederò a lui appunto se gli va di caricarlo visto che erano cose che avevamo fatto insieme e sono racconti di di giocate insieme di me e lui qua appunto c'era la una piccola pezzetta in cui ci sedevamo tipo la sera a goderci la frescura ehh boh niente credo che sia tutto tra l'altro avevamo penato per trovare i semi perché era la prima volta che avevano aggiunto i semi solo che ho creato il mondo più volte ma non c'era la giungla infatti l'episodio che ho caricato non è neanche poi quello il mondo che abbiamo scelto ehh perché non c'era la giungla qua alla fine avevamo trovato la giungla con questi che davano i semi per per poter coltivare quando hanno aggiunto in pratica la possibilità di coltivare in in mind test per la prima volta con questo spero cioè spero penso che possa essere tutto io vi saluto vi invito a mettere un mi piace iscrivervi al canale ehh le solite cose venite a trovarmi su facebook eccetera eccetera ah vi invito ad andare a cercare il canale di Iachidale perché si perché lui è andato avanti io mi sono arenato lui è andato avanti ha fatto la sua strada ehh sono contento per lui comunque cercatelo su su youtube ehh iscrivetevi al suo canale se per caso vi piace ma penso di sì perché è un bravo ragazzo perché è un bravo ragazzo e fa dei bravi video io vi saluto ciao a tutti e al prossimo video ciao